di tutto questo. Abbiamo come sistema Italia calato l'asso. L'asso vuol dire l'italiano più credibile a livello internazionale. Noi godiamo di una tregua sui mercati internazionali che è la tregua Draghi, cioè godiamo del fatto che a livello internazionale, guardi che i mercati internazionali, secondo me, dobbiamo monitorarli con grande attenzione. Quello che accade in questi ultimi giorni, a me personalmente preoccupa molto, c'è una grande volatilità, c'è una situazione di nervosismo, c'è una situazione molto, molto complessa. Non è vero che questa tregua globale, noi abbiamo Draghi, usiamola, è una grande carta che lo abbiamo. Perché se iniziano a uscire altri dalla paura del coronavirus, se noi ci rimaniamo dentro, potrebbero chiedere il conto. Gli Stati Uniti stanno uscendo, questa è la verità. E purtroppo questo ci fa capire anche che il sistema capitalistico del mercato, sul tema delle grandi aziende farmaceutiche ci ha posto un problema. Negli Stati Uniti producono e negli Stati Uniti si sono presi i raccini. Noi non produciamo e noi abbiamo il problema. Ora ne parliamo, manca un titolo.